Buonasera, buonasera, ben ritrovati, ben ritrovato anche a te Jacopo. Grazie, ben ritrovato a te, saluti a tutti e a chi ci guarda e agli ospiti in studio. Due parti di trasmissione come ogni venerdì, la prima parte parliamo di Green Pass, parliamo di contagi e parliamo anche del DDL ZAN e mentre nella seconda parte ci occuperemo del nuovo e del vecchio stadio. La nostra rubrica dei quartieri sarà incentrata proprio sul quartiere di San Siro e sullo stadio di San Siro perché Sala oggi ha dato un punto sulla vicenda. Oggi ha parlato in maniera chiara, per la prima volta forse, però ha parlato in maniera chiara. E di questo ne parleremo. Ok, allora gli ospiti in studio Fabio Pizzu, il capogruppo del Partito Democratico in regione Lombardia, buonasera. Buonasera, grazie. E buonasera anche a Giulio Gallera, ben ritrovato, Forza Italia, Consiglio regionale della Lombardia, ex assessore alla salute. Ci dobbiamo collegare, però non lo vedo, ma dobbiamo collegarci anche col professor Pierangelo Clerici, microbiologo del CTS della Lombardia che ci darà anche delle informazioni sui contagi perché ahimè la notizia è che in Italia noi siamo... Eccolo qua, Clerici, professore ci sei? Eccolo qua. Io ci sono, noi anche, noi anche, senti, io vedevo, allora ti chiedo due cose, la prima cosa è questa cosa che l'immunità nei vaccinati con AstraZeneca cala più rapidamente rispetto alle persone vaccinate con Pfizer e Moderna, allora siccome già dall'inizio noi dicevamo ah ma AstraZeneca è il vaccino un po' di serie B, poi tutti quanti ci avevano detto no non è vero, vanno bene tutti, adesso viene fuori che copre meno e quindi Bertolaso oggi ma non solo lui han detto veloci a far la terza dose. Il tuo punto di vista? La situazione è molto interessante, AstraZeneca è diverso da Pfizer e Moderna concettualmente, perché da una parte c'è un vettore vitale, che è un giomolecolare, che è un messaggero, per cui ci sta che può finire, però non spaventare, ma si effettua la terza dose, sia per la pazienza che per i pazienti che sono stati avvicinati con Moderna e Pfizer, Aspetta però, scusami, c'è un problema, scusami, c'è un problema di audio, tu non è che hai recuperi delle cuffiette da qualche parte? Tipo nell'arco di poco. Nell'arco di 20 secondi? Bravo, così mi piaci. Mi sentite? Sì. Meglio. A meglio. Prova? Mi sentite adesso? Sì, assolutamente. Quindi il problema, no, il problema, la questione era nella… Io vedo voi frizzati però, eh? Vabbè, quello è relativo, è relativo il problema del noi frizzati. Vuoi che lo richiamiamo? No. Chiedo alla regia, lo richiamiamo? Così facciamo un collegamento fatto meglio. Dai, metti giù che ti richiamiamo, perché vederci frizzati non è proprio il massimo. Allora, facciamo un giro da voi su questa vicenda, sul fatto della terza dose. Prima hanno detto Johnson & Johnson, bisogna fare la terza dose, la seconda, perché copre poco. Tenendo presente che lui stava sostenendo il fatto che sono effettivamente diverse tipologie di vaccino, diceva lui. Quando ce l'hanno propinato, dicevano… Lo dicevano già. Sì, però dicevano che copriva uguale. Gallera, è vero? No. Quando è stato fatto l'AstraZeneca… È tornato. È tornato, aspetta. Prima di Gallera c'è Clerici, vai. No, ma io saluto l'assessore al welfare Giulio Gallera, fino a qualche mese fa, con cui abbiamo condiviso tavoli tecnici, soprattutto per la diagnostica del Covid. E abbiamo fatto un lavoro egregio in quei mesi. Per cui lo vorrei sottolineare questo, perché non dobbiamo… Assolutamente. Bravo, 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 grazie, bravo. Credo che anche Gallera sia contento di queste due parole. Allora, dici questa roba di AstraZeneca, è una patacca? No. No, è la… Il vaccino che è di lei. Il vaccino che ha vittorio di rata. Sono il renome staggetto. Quindi c'è un'intrinseca scomposizione di un cibo dell'ordine. Il fatto di spingere entra la terza… Manco con gli auricolari. Neanche con gli auricolari, prof. C'è un problema proprio di collegamento, perdonaci. Parlami, Rattani. Perché si sente troppo male. Si sente troppo male. Non lo so. No, no, non c'entri tu. Non lo so di chi è la responsabilità. È un problema tecnico che non so come… Chiedo alla regia, secondo regia, ha senso richiamarlo o non ha senso? Magari tra dieci minuti. Magari tra dieci minuti. Allora, tu stai lì. Riproviamo tra cinque minuti. Ok, grazie. Scusate, è il bello della diretta. Adesso stavolta non interverrà, per cui possiamo chiedere. Esattamente. Partirei da Gallera. No, adesso le valutazioni scientifiche le ha fatte l'amico professor Clerici, che peraltro ringrazio io per il grandissimo lavoro che ha fatto in un momento complicatissimo il tema dei tamponi, dello sviluppo dei laboratori. Abbiamo fatto e hanno fatto un lavoro in un momento difficilissimo in cui non c'erano, non riuscivamo a trovarli, di sviluppo della rete e siamo riusciti a tracciare e a fare un numero ampio di tamponi. Sono vaccini, l'ha detto, diversi. Dopodiché sono vaccini efficaci entrambi. È curioso che all'inizio, non da tecnico, tutti volevano fare AstraZeneca perché era un vaccino fatto come gli altri vecchi, i vaccini che si inoculano come quello del morbillo, della parotite e quant'altro. E tutti erano diffidenti invece rispetto a quelli con il vettore RNA. Dopodiché la situazione si è invece capovolta. Eh sì, è vero, è vero. Che la gente voleva fare. Dopodiché su tutti questi vaccini hanno una... Dopo un po' di mesi crollano gli anticorpi. È una situazione, voglio dire, che si sta riscontrando. A volte, adesso lo sentiremo, qualcuno prima, qualcuno dopo, bisogna fare una terza dose. Ma anche chi ha fatto Pfizer e Moderna dovrà rifarla. Probabilmente la farà forse due mesi dopo o tre mesi dopo, ma andrà rifatta. Cioè la questione di AstraZeneca è perché gli over 60 che vengono considerati prioritarie... Beh no, allora anche gli insegnanti. Gli insegnanti hanno fatto AstraZeneca ma erano giovani. Eh, in realtà... No, ma vabbè, ma è la tipologia... Quello può essere un tema, in realtà. All'Niguardac, dove ogni due mesi fanno il testo sierologico per verificare il numero di anticorpi, hanno notato, proprio voglio dire, sul campo, così come... Eh, che c'è una riduzione di anticorpi. Poi anche qui il virus ci ha insegnato che ogni soggetto reagisce in maniera diversa, no? Certo. E anche il vaccino reagisce in maniera diversa. Però nella stragrande maggioranza dei casi è così. Quindi dovremo fare probabilmente una terza dose. Ci affidiamo alla scienza. Io voglio dire, lo dico adesso, poi sarà, penso, un live motive su tante altre riflessioni. Cioè ci sono degli scienziati di grandissimo valore a livello lombardo, a livello nazionale, che stanno studiando con grande velocità perché nessuno ne sapeva niente. Per fare i vaccini prima del Covid ci volevano anni, anni. E questo l'hanno fatto in pochi mesi. Ha accelerato tutto e quindi stiamo scoprendo gli effetti, stiamo scoprendo le durate. Cioè anche la terza dose è un po' inferiori alla fine. Esatto. Prima sembrava che addirittura, dicevano, allungheremo la durata del Green Pass da 9 mesi a 12 mesi, perché invece adesso sembra che sia necessario farla. Vedremo. Ricordiamo che l'influenzale, dove anche lì si è dato un virus, ogni anno lo facciamo perché il virus è diverso, copre per alcuni mesi, non copre proprio tutte le patologie, le tipologie di influenza, dei ceppi dell'influenza e si va avanti. Però oggi il dato è che il numero delle ospedalizzazioni è ancora estremamente contenuto. Oggi siamo a meno 3, voglio dire, cioè abbiamo rispetto a ieri meno 3 ricoverati e abbiamo uno in più in terapia intensiva. Siamo al 5% di ricoverati nei reparti ordinari e al 3% in terapia intensiva. Cioè per dire che... No, ma noi siamo messi benissimo. Ecco, no, perché stiamo continuando a dire che si incrementano i casi, va bene, ma se tutto questo non porta ad un incremento di ospedalizzazione... Ah certo, se sono asintomatici... E diventa l'ordinarietà di quello che è un virus con cui probabilmente dovremmo convivere per molti anni. Ok, questo sì, però ad esempio a Trieste ci sono 256 positivi ogni 100.000... Ma sono pochissimi vaccinati a Trieste. Quindi il problema è quello lì. No, sono pochissimi vaccinati e c'è un altro elemento. E tutti i cortei che stanno facendo. No, quello è la Slovenia. Perché tu sei esperto di Friuli. No, la Slovenia, al di là che Trieste non è Friuli per cortesia, è Venezia. Oh scusami, Venezia Giulia, scusate. Però va bene, della regione possiamo... Pizzo l'ha perso, la sua stima è messa e forse mi arriva. No, no, sto scherzando. La poca che... Naturalmente, molto amico di tanti triestini. No, la Slovenia è uno dei paesi dell'Unione Europea che ha un'incidenza maggiore di casi perché ha pochi vaccinati e c'è un contagio molto diffuso. Quindi il caso di Trieste che ha passaggi continui con la Slovenia, che non è chiusa di fatto quella frontiera... Però questo quindi va spiegato e va detto che quindi le persone che sono vaccinate continuano a essere tutelate al momento. Non è che adesso non vale più quando vedi Trieste, c'è Dio adesso anche qua. No, assolutamente. Ha ragione Gallera quando ci siamo messi bene. Ma c'è un altro elemento. Condivido in pieno quello che diceva Giulio Gallera. Poi c'è anche un altro elemento che è il fattore tempo. Allora guardate, la scienza a cui dobbiamo affidarci va avanti non per ipotesi, intuizioni, ma va avanti anche per verifiche. E noi stiamo in questa pandemia verificando col tempo quello che accade su un virus e una diffusione del virus che era sostanzialmente ignota. Lo si diceva prima, quando è arrivato non conoscevamo nulla. Adesso conosciamo molto di più, però... Scopriamo via via quanto dura la copertura, se ci saranno delle mutazioni, no? Esatto, poi l'altra cosa da dire è che è come se fossimo nei pressi di una necessità di girare pagina. Ovvero abbiamo fatto quello che dovevamo fare, purtroppo non fino in fondo, ma perché tanti hanno scelto di non vaccinarsi con prima e seconda dose. Adesso voltiamo pagina e diciamo come operiamo sulla terza dose. E non è un caso, lo diceva anche prima il professore, che si torna al criterio che avevamo all'inizio della campagna vaccinale. Partiamo dai più fragili, cioè da quelli che hanno maggiore bisogno di protezione. E infatti è così, siamo partiti dagli anziani, tra gli anni e via via via. Ci vuole grande prudenza e ci vuole anche grande realismo. E chi ha fatto AstraZeneca ha avuto la copertura in questi mesi, perché se no non avremmo una situazione positiva come quella che stiamo vivendo. E probabilmente adesso i numeri ci dicono che potrebbe avere una minoprotezione, ma non è azzerata. Però io non vorrei dare messaggi come è successo all'inizio, messaggi confusi. Allora, gli sessantenni e gli insegnanti che hanno fatto AstraZeneca, se non sono passati sei mesi, giusto? Non devono farlo. Non vorrei, perché qua cominciano a scrivere. No, hanno già scritto in tanti. Sono un 61enne, ho fatto due dosi AstraZeneca, la seconda è il 13 luglio. Devo fare la terza dose subito o aspettare, ma non ti ricevono neanche. Cioè, nel senso, tu scrivi per prenotarti, il sistema ti dice, non è ora. L'ha fatto una persona di tua conoscenza. Sì, l'ha fatto mio papà. Non è ora. No, ma certo. Quindi questo è un messaggio che tu puoi amare. L'altro chiede, ma la devo fare? Posso farla adesso? Devo aspettare. Non è che puoi, non puoi. Non puoi, se non sono passati sei mesi dalla seconda dose. Quindi il titolo deve essere, aspettate sei mesi dalla seconda dose, perché secondo me la gente si spaventa. Mi sembra un po' d'ansia qua. Va bene, adesso mandiamo la fascia, vediamo se troviamo clerici con l'audio costante. E poi parliamo anche dei cortei di Green Pass, perché domani a Milano ce ne sono due, uno dei quali sarà autorizzato. Ma in realtà, da quello che ho capito, c'è il presidio che è autorizzato, ma anche l'altro corteo, la questura ha un percorso. Per cui vuol dire che qualcuno gli ha detto, facciamo quel giro lì. Vediamo cosa ne pensate anche voi due. Sono due non autorizzati, ma sono due di cui si sa un po' tutto. Quindi c'è il rischio che ci sia una confusione in mano. Sì, sì. A tra poco. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. Carburatori Bergamo da sempre investe nella tecnologia e la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma i più sofisticati del mercato. Se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, ottimizzazione della centralina, non pensarci un secondo in più. Chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. Hai necessità di rinnovare il certificato di prevenzione incendi del tuo capannone, della toto rimessa privata o condominiale? La Rive Spray è un'azienda specializzata nella stesura di vernici intumescenti e intonaci ignifughi in ambito edile e industriale. Proponiamo soluzioni certificate su qualsiasi supporto come legno, acciaio e cemento armato fino a 240 minuti di resistenza al fuoco. Eseguiamo preventivi e sopralluoghi gratuiti anche il sabato. Rive Spray, la tua protezione contro il fuoco. Vamag, tecniche di collaudo, presenta One Stop. Questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di due minuti. Il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti. Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza. Vamag dal 1981, European Quality, made in Italy. Alla Mondo Flex siamo pronti per iniziare una nuova stagione. E voi? Iniziamo insieme questo percorso consapevoli che il riposo, il dormire sano è molto importante. Noi siamo qui per ascoltare le vostre richieste e per trovare insieme la soluzione. Problemi di allergie? Montale, memory a cellule aperte, anallergico e traspirante, scontato del 40 più il 20%. Problemi di sudorazione? Pascoli, in memory breath, termoregolante che mantiene la temperatura del corpo, scontato del 40%. E se siete attenti all'ambiente, se volete una linea naturale, pirandello realizzato con miscele ricavate da estratti vegetali, scontato del 30%. E con il primo acquisto riceverete la carta oro, che vi dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto, anche sui prezzi già scontati. Scegliete Mondo Flex, perché Mondo Flex fa la differenza. Vi aspetto. Adesso vedrei che mai non... Allora, non ho capito se riusciamo a parlare col prof. Facciamo l'ultimo tentativo. Prof, parlaci. Non sente niente. Niente, lo salutiamo. Salutiamo il prof. Clerici. Mi dispiace. Guardaci, ecco, effetto. La prossima volta. La prossima volta. Mi spiace, problemi della tecnica. Eh. Va bene, facciamo così, cambiamo il titolo e parliamo delle manifestazioni di domani. Abbiamo il servizio di Michele Lanati, che si chiama Green Pass. E così parliamo dei cortei previsti per domani. Il servizio cortei, no, il servizio Green Pass. No, Green Pass. Milano si prepara al quindicesimo sabato di proteste no Green Pass, con uno sguardo a Roma, dove si terrà il G20 e dove le previste manifestazioni di protesta potrebbero attirare partecipanti a scapito di quelle del capoluogo Lombardo. Il dispositivo delle forze dell'ordine, come già in parte sperimentato sabato scorso, sarà caratterizzato da una particolare mobilità, anche perché è del personale stato inviato nella capitale per il G20. Lo schieramento davanti a obiettivi particolarmente sensibili, tra i quali Palazzo di Giustizia e la vicina Camera del Lavoro, seguirà il corteo una volta passato, lasciando un contingente a protezione. Due le manifestazioni no Green Pass. Alle 15 in Piazza Duomo, i movimenti No Paura Day e Primum Non Nocere promuovono una conferenza alla quale interverrà anche il portavoce dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer. Per la prima volta un gruppo di no Pass ha preallertato la questura per un presidio statico, senza un palco, ma solo con una pedana da cui parlare. L'iniziativa al momento risulta autorizzata con riserva dalla questura e rappresenta un inedito rispetto a chi, da oltre quattro mesi, manifesta per la città senza regole. Alle 17 ci sarà poi l'ormai consueto presidio in Piazza Fontana, che si è poi sempre sviluppato in un corteo non autorizzato. Alle 16 invece si terrà un'altra manifestazione di tutte le forze democratiche e antifasciste in difesa della Camera del Lavoro, che ha subito durante le ultime manifestazioni dei no Green Pass diversi tentativi di assalto, vanificati dalle forze dell'ordine. 15 sabati che Milano è attraversata da questi cortei, da queste manifestazioni e nel frattempo ci sono state le minacce al sindaco Sala. Sì, un'escalation davvero assurda che sta mettendo molto in difficoltà la città. I commercianti lo hanno detto a chiare lettere, con 14 sabati in cui si sono visti nella necessità di dover chiudere addirittura anticipatamente le loro serrande, davvero li stanno mettendo in difficoltà. E anche questa degenerazione a livello di violenza che troviamo sui social e cose del genere, davvero da un lato intristisce molto, dall'altro preoccupa, perché c'è questa diffusione che davvero ci fa interrogare anche sul clima che c'è in questo momento nel paese. Secondo te Giulio Galera perché è diventato così spinosa questa cosa, addirittura da trascinare a queste persone in strada tutti i sabati, gente che ha voglia tutti i sabati di fare questa cosa. Mi sembra che ci sia da parte di alcuni un'azione di rimozione di quello che abbiamo vissuto soltanto pochissimi mesi fa. Io sono francamente allibito, lo ripeto spesso. Sì, ma c'è più che il corte dell'atteggiamento rispetto dei no green pass, dei no vax, cioè ma noi un anno e qualche mese fa eravamo chiusi in casa con una città bloccata. Ci sono, è uscita questa indagine della Caritas che dice che c'è un numero di persone che sono cadute nella povertà a causa di questo e dopo mesi non sono ancora riusciti a recuperare intere comparti. Pensiamo allo spettacolo, pensiamo al turismo, c'è gente sull'astrico. Io quando ho iniziato a interrogare su un'iniziativa che avevo compiuto appunto i rappresentanti della ristorazione, ho detto che il dramma che vedevo nei loro occhi era uguale al dramma di chi era nelle terapie intensive, un paragone molto forte ma per dire il disastro che stavano vivendo. Noi stiamo superando questo grazie alla vaccinazione e grazie al green pass. Ma queste persone si rendono conto di cosa abbiamo vissuto, ma queste persone di che cosa vivono tutti i giorni, come guadagnano, come mangiano, come vanno avanti. Perché poi spendono anche dei soldi per i capponi. Quindi voglio dire, io lo trovo, guarda io da liberale sono per la libertà di espressione di ognuno, è chiaro che poi la libertà di espressione di ognuno non può continuare a ledere la libertà degli altri. Quindi bene, ce la volete manifestare in maniera civile, senza disordi. Esatto, quello è un diritto sancito dalla Costituzione. Dopodiché è chiaro che quando sei al quindicesimo sabato creando danni così continui in un giorno così vitale, forse potremmo interrogarci su collocarli nell'esprimere la loro posizione in zone che non interagiscono con lo shopping del sabato, forse o qualcosa. E però poi... Anche perché si avvicina pure il Natale, cioè se fanno gli Osiris la prossima volta voglio vedere cosa succede. Però ho capito, ma se la questura dice di qua non potete passare, loro ci passano lo stesso? E finora è successo così. E no, ma certo, quindi anche azioni che sono violente, però io ripeto, francamente non riesco a capire l'atteggiamento di queste persone e io richiamo tutti, guardate, ha veramente, cioè i dati di oggi alla mano dimostrano oggettivamente che la campagna vaccinale, infatti diceva Pizzul prima, nel fluenza Giulio l'ha fatto meno e quindi c'è un'aggressività... A Trieste in particolare. A Trieste. E' per quello che c'è una ricrudiscenza... La Lombardia oggi è così al 90%, noi in qualche modo siamo ripartiti con una vita... E infatti è la regione, credo che sia la regione che sta meglio, se non è la prima... Cioè l'alternativa di queste persone qual è? Quella che dobbiamo tornare a chiuderci tutti a morire di fame? No, io credo che una parte delle persone che non vogliono vaccinarsi, non dico tutti, una parte siano convinti che alla fine il Covid non sia una cosa così grave. E che sia curabile a casa. Io ho ricevuto un video, perché c'è delle cose, io dico, ma sono folli, cioè perché poi i dati vanno visti, che dicevano che, no, di Meluzzi che diceva... Perché ha ripreso un articolo che diceva solo 3.000 sui 130.000... Sì, sì, l'abbiamo commentata l'altra volta. Io voglio dire, in Lombardia... Per gli asti ho cominciato a insultare. Nella prima fase abbiamo avuto un accesso di mortalità, quelli sono i morti, dato oggettivo dei morti, del 111% rispetto ai 4 anni precedenti negli stessi mesi. Oh, ma questi non è che possiamo confutare i morti, ok? E sono morti per caso. Quindi, i morti, quelli che avevano le patologie precedenti... I riducibili ti dicono che sono morti per altri motivi. Perfetto. Ma l'anno precedente c'erano i malati di tumore che morivano esattamente come due anni prima o come tre anni prima. Io ti sto dicendo che se tu compari il mese di marzo, aprile, maggio del 2019, 2018, 2017 e 2016, fai la media, quindi con quelli che avevano tre patologie e gli anziani, quindi la stessa situazione. E il 2020 c'è in Lombardia un eccesso di mortalità del 111%, è un dato di fatto, no? Quindi vorrà dire questo qualche cosa o no? Quindi, insomma, io dico, non possiamo travisare tutto. Il problema non è, il problema è che queste cose le devi dire, appunto, a queste persone che vanno... Poi, sai, è il loro diritto a non vaccinarci? No, è il loro diritto a non vaccinarci? No, no, ma un conto è la persona che non si vaccina, che fa il tampone e che ha per scelta, però poi se vai a manifestare e crei dei problemi... No, certo, blocchi la città. Blocchi la città, va più bene. È una minoranza, ribadiamolo, è una davvero minima minoranza che sta però non esprimendo una propria posizione con la libertà di poterlo fare, ma sta mettendo in difficoltà tantissime altre persone. Questa sarebbe un'espressione di libertà, non credo francamente. Vedi, però cosa mi dicono? State facendo disinformazione e chiacchiere da bar. Le vostre tesi sono agghiaccianti. Allora, che mi offra un caffè, il signore, così siamo al bar davvero. Sono dati oggettivi, non sono chiacchiere da bar. Io ho parlato di dati oggettivi dell'Istat, ok? Cioè il tema è questo, che abbiamo delle persone che non si sa dove si informano e dicono loro, cioè non negano la realtà vera e oggettiva dei fatti. Poi dopo... Ok, però Tizzo l'ha detto una cosa, libertà di manifestare il proprio pensiero, libertà di non vaccinarsi, però non andare in piazza, eccetera. Però il problema che sollevano loro è, io non ho un megafono per esprimere il mio dissenso, che non sia la piazza, perché effettivamente loro sostengono che noi, giornalisti, o comunque che ci sia una sordina alle loro posizioni. Posso dire da giornalista che se andiamo a vedere i pesi di quanti sono questi che manifestano e che hanno queste posizioni e quanti sono gli altri, hanno molto più spazio loro di tutti gli altri in questo momento sui media. È una minoranza che non è che ha la sordina, anzi è sovra rappresentata rispetto a quello che... Ma secondo voi queste persone sono convincibili ancora? Ormai sono rimasti gli irriducibili, Gallera? Ormai siamo vicini. Allora, io non lo so, mi sembra che un paese ripartito ha bisogno di fare delle scelte precisi. Io condivido anche la posizione di Draghi, che a un certo punto ha imposto il Green Pass sul luogo di lavoro. E tu sei d'accordo con i tamponi a pagamento? Certo, mica le devo pagare io, insomma, i tamponi per chi decide di non vaccinarsi. Hai visto Piccirillo che ha detto che deve pagare la Regione. No, no, avrebbe senso. Piccirillo, voglio dire, ed è anche già una posizione così. Il vivere civile si basa su delle regole, ok, che ci diamo insieme per tutelare la convivenza civile. Ripeto, è la stessa cosa della cintura. La cintura è obbligatoria, se tu non la metti prendi la multa, chiaro? Vuol dire, tre anni fa è stata fatta una legge nel 2017 dal Ministro Lorenzin, che ha imposto l'obbligatorietà dei vaccini per i nostri bambini. Se non vengono vaccinati non possono frequentare gli asili nido e le scuole materne. E alle elementari e ad alto ci sono delle multe per i genitori. Che è l'obbligo vaccinale, ok? È stato fatto perché alla fine si è ritenuto che in quel momento ed era storico, era importante perché c'era un rischio di abbassare delle soglie e di non raggiungere l'immunità di Grecia. Potremmo fare altri mille esempi. Però loro ti dicono perché non fai anche qui l'obbligo vaccinale? Io sono a questo punto per l'obbligo vaccinale anche su questo. Ma in qualche modo, in una situazione del genere, probabilmente per accompagnare in maniera più... No, ma anche perché non è ancora uscito dallo stato emergenziale il vaccino. Ma poi il Green Pass però ti consente. A, c'è qualcuno che non lo può fare. B, poi se hai fatto il Covid evidentemente non devi fare il vaccino. C, puoi farti il tampone. Quindi c'è una gradualità di posizioni. E quindi tiene conto delle sensibilità di tutti anche in questa fase e in questo momento. Mi sembra un buon compromesso. Quella scelta di Draghi, certo. E quindi va capita e va... Voglio dire, c'è bisogno di affidarsi a chi ne sa. Perché non è che chi ha studiato per una vita alcune... Voglio dire, queste tematiche è uguale a chi va su Google e si informa. No, certo. No, perché altrimenti c'è. Che senso ha studiare? Che senso ha approfondire? Che senso ha passare una vita facendo esami? Facendo pubblicazioni e essendo riconosciuto a livello internazionale. Diciamo che in questo paese la meritocrazia ormai è totalmente andata. No, poi tra l'altro dimentichiamo una piccola cosa. Tanto quanto il vaccino è fatto grazie a tutti questi studi e tutte queste ricerche, anche tutti gli altri farmaci che hanno dei rischi, che sono di fatto in alcuni casi comparabili percentualmente o anche maggiori percentualmente rispetto a quelli del vaccino, però li si usa. Se non avessimo i farmaci che hanno controindicazioni eccetera eccetera, ma secondo voi l'età media degli italiani sarebbe salita fino a oltre 84 anni? Ma se non avessimo tutti questi farmaci che hanno le stesse controindicazioni di un vaccino, l'età media del nostro paese sarebbe ferma a 60-65 anni? Qua mi scrivono, le persone che protestano contro il vaccino sono gli stessi che poi per andare in ferie si fanno iniettare vaccini di ogni tipo e poi dimostrano certificato. Però c'è anche quello che dice che facciamo disinformazione, i vaccini non servono, in Israele il vaccino continua anche, il covid continua nonostante il vaccino, siete a conoscenza sui veri dati dei morti, dittatura sanitaria. E' che scriva e ci spiega. Vabbè la scopo. No vabbè io però li leggo perché poi dicono non li leggo. No capito, però se è lo stesso ne abbiamo letto uno. No 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 non è solo uno. Ok va bene. Allora ci fermiamo che dopo volevo chiedervi cosa ne pensate voi della frase che sta... No 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 scusami perché questa la voglio leggere. Ma basta con questi cortei. Sia il vaccino sia il vaccino. Questa la voglio leggere, guarda qua, attenzione, attenzione. Io francamente non ho ricevuto. Allora spieghiamo, dopo la pubblicità spieghiamo perché ci dicono che veniamo pagati per dire queste cose. No, la voglio spiegare. Però se volete sapere la mia spiegazione dovete restare dopo la pubblicità. Hai necessità di rinnovare il certificato di prevenzione incendi del tuo capannone, della tua torrimessa privata o condominiale? La River Spray è un'azienda specializzata nella stesura di vernici intumescenti e intonaci igniti. In ambito edile e industriale. Proponiamo soluzioni certificate su qualsiasi supporto come legno, acciaio e cemento armato. Fino a 240 minuti di resistenza al fuoco. Eseguiamo preventivi e sopralluoghi gratuiti anche il sabato. River Spray, la tua protezione contro il fuoco. C'è qualcosa di nuovo in città. L'esperienza del gruppo Fassina incontra il glorioso marchio MG e la sua gamma di vetture ibride ed elettriche. Un vero concentrato di tecnologia ed efficienza con 7 anni di garanzia e ben 5 stelle Euron Cup. Affidabilità e sicurezza, ma anche interni spaziosi, confortevoli e ricchi di funzionalità intelligenti. C'è una MG e HS plug-in hybrid adatta ad ogni stile di vita. Vieni a scoprirla e a provarla da Fassina. In via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano. Alla Mondoflex siamo pronti per iniziare una nuova stagione. E voi? Iniziamo insieme questo percorso consapevoli che il riposo, il dormire sano è molto importante. Noi siamo qui per ascoltare le vostre richieste e per trovare insieme la soluzione. Problemi di allergie? Montale, memory a cellule aperte, anallergico e traspirante, scontato del 40% più il 20%. Problemi di sudorazione? Pascoli, in memory breeds, termoregolante che mantiene la temperatura del corpo, scontato del 40%. E se siete attenti all'ambiente, se volete una linea naturale, pirandello realizzato con miscele ricavate dai strati vegetali, scontato del 30%. E con il primo acquisto riceverete la carta oro che vi dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto, anche sui prezzi già scontati. Scegliete Mondoflex perché Mondoflex fa la differenza. Vi aspetto! EQC. Enjoy Electric. Oggi anche con free lease e noleggio flessibile Mercedes-Benz. Scopri EQC su mercedes-benz.it Per la tua Mercedes-Benz, scegli la grande famiglia Venus. Pazzesco. Allora, volevo, innanzitutto ci dicono che noi siamo pagati dallo Stato per dire queste cose. Allora, le TV hanno delle sovvenzioni, sono dei fondi di emergenza. Per fare campagna. Per fare campagna anche di informazione. Infatti noi abbiamo dei lauti bonifici. Guarda. Siamo pieni di bonifici. E' l'unica giacca intera che c'ho, guarda. Siamo pieni di bonifici, di soldi che ci danno per dire questo. Non scherziamo nemmeno su queste cose. Allora, no. Volevo chiudere questo argomento. Poi passiamo al DDL Zan sulle minacce che hanno fatto a Sala. Perché c'è stato un fraintendimento su una frase che lui ha detto, che è stata fraintesa. Nel senso che lui ha detto che non sarebbe d'accordo nel caricare i manifestanti. Ma qualcuno l'ha tradotto con Sala vuole caricare i manifestanti. Caricali tutte. Allora, io chiedo a voi, secondo voi, se sarebbe una soluzione quella dello scontro fisico con i manifestanti, quelli che non seguono le indicazioni della questura, ovviamente, non quelli che seguono quello che viene detto la questura. Gallera, parto da te. C'è uno scontro con questi manifestanti, una carica della polizia. Perché noi abbiamo visto a Roma quello che è successo quando c'è stato l'assalto alla sede della CGL. Quelli erano cortei violenti. Oppure quando hanno tentato di entrare nella stazione centrale. Anche a Milano è successo e lì la polizia li ha fermati in maniera brusca. Vuol dire, se c'è un rispetto delle regole o concordate in maniera più o meno ufficiale e se si manifesta pacificamente, vuol dire che nel momento in cui ci sono dei luoghi considerati sensibili a cui non si può arrivare, il corteo deve accettarlo e cambiare direzione. Se tu manifesti pacificamente, non è in alcun modo necessario, né corretto, né attaccarli o cercare di disperderli. Assolutamente. Ripeto, il diritto a manifestare il proprio ministero penso sia assolutamente da tutelare. È chiaro che nel momento in cui queste persone con violenza cercano o di arrivare verso certi obiettivi o altro, oggettivamente devono essere fermati. Adesso non è che noi possiamo immaginare che... Ma la parola carica ha sconvolto alcune persone che poi dopo nelle loro chat su Telegram, sapete le chat quelle basta a dittatura sanitaria, hanno cominciato a minacciare Sala. Era giusto impedire che la sede della CGL fosse distrutta in quel modo, sì o no? E quindi avremmo dovuto avere lì dei poliziotti che impedivano l'ingresso, sì o no? Sì, punto. Poi voglio dire come realizzano tutto questo, però le forze dell'ordine devono tutelare i luoghi o le persone, no? Cioè se io vado lì e urlo viva il Green Pass e viva i vaccini e davanti a quelle persone mi succede qualche cosa, la polizia deve essere lì a tutelarmi, se uno mi mena lo prenderanno e lo fermeranno anche in maniera... Quindi la parola carica non ti sconvolge tanto? No, io dico che se tu sei, che manifesti pacificamente... Nessuno ti deve toccare. Se tu sei il violento, è chiaro che chi è di tutelare l'ordine pubblico deve reagire alla violenza bloccandola. Pistul? La gestione dell'ordine pubblico è finalizzata a evitare ogni tipo di violenza e l'eventuale carica è carica di alleggerimento in questo momento, cioè di tentativo di evitare che succedano violenze peggiori. Non si parla e non si è parlato in nessun caso di cariche per disperdere dei manifestanti e impedire ai manifestanti di esprimere la loro posizione. Poi, se è una manifestazione non autorizzata, e questo va avanti per 14, 15, non so quante settimane, verrà anche il momento in cui probabilmente i tutori dell'ordine pubblico diranno, cari miei, fino ad oggi vi abbiamo fatto manifestare. Da domani manifestazioni non autorizzate, ma non li fanno neanche arrivare, non è che non li caricano. Qualcuno scrive, in due hanno minacciato sale e sembra che 15 mila manifestanti siano sotto casa sua. È sempre il ragionamento della raccontata una cosa. Ma la minaccia di decapitarlo, scusate. No, quelli pagheranno, quei due, lui dice, non solo 15 mila che la manca. 15 mila o 5 mila, quello che volete, manifestanti, nessuno ha detto che sono tutti dei violenti, anzi, e ci sono pochi violenti che danneggiano, che infineggiano la protesta di tanti che non sono violenti, che in realtà purtroppo sono tra virgolette vittima, nel senso che poi passare per violenti persone che non lo sono è anche sbagliato, francamente. Due cose, allora uno richiariamo definitivamente, perché arrivano i messaggi, chi ha fatto AstraZeneca, se non sono passati sei mesi statevene lì belli tranquilli. Ma chiedete pure, tanto vi dice di no, il sistema, quindi non c'è problema. La seconda cosa, volevo chiedere a voi invece un parere su un fatto che è accaduto nella stazione Garibaldi, perché un lavoratore di Trenord è stato fatto un controllo a campione sul treno e gli era scaduto il Green Pass, hanno fatto fermare il treno, nel senso che il treno è dovuto tornare, non poteva più continuare a lavorare. I sindacati si sono ribellati dicendo che in realtà lui avrebbe dovuto finire il servizio. Voi sapete la ragione da che parte sta? Perché io sto pensando ai passeggeri inferociti che hanno... Però è un buon senso, se valiva quando è entrato... Anche secondo me, se valido alle 8 del mattino avrà stato o malato o aveva fatto un tampone quindi doveva rifarlo, però un conto è una persona che elude fare il Green Pass... No, ma infatti in questo caso secondo me è stato senza senso. Doveva arrivare alla fine, cioè io penso che guardate... Allora, è un periodo complicato e quindi fare delle regole è sempre stato complicato. È complicatissimo adesso. Le contraddizioni le ho vissute io sulla pelle, nel senso che facciamo delle norme che poi erano di difficile applicazioni e le abbiamo viste dal governo nazionale, no? C'è coloro che potevano mangiare in zona gialla a ottobre al ristorante, a gennaio non potevano mangiare dentro, no? C'è le stesse condizioni e quant'altro. Però ecco, cioè il buon senso deve essere... Anche nel controllo, no, sto dicendo che anche nel controllo ci deve essere il buon senso. Ma sì, alla fine io, adesso poi, sulla normativa stringente probabilmente è stata applicata, no? Sì, in maniera estremamente... Fin troppo rigorosa. Magari anche per dare un segnale ulteriore di rigidità, guardate che non tolleriamo. Sì, però nel caso specifico... In quel caso lì parlo scendere alla fermata successiva facendo arrivare lì un collega che continuava nel turno, anche se poi non sono situazioni semplici da gestire e un po' di flessibilità da parte di tutti, secondo me ci garantisce di superare anche questa fase in maniera un po' più tranquilla. Dal senso Son Giovanni stanno dicendo le manifestazioni non autorizzate vanno impedite, i commercianti di Milano lamentano un calo degli affari, usate gli idranti. E adesso... Manca solo quello. Calma. Calma, no? Siete d'accordo? Manca solo quello. Anche perché, allora, l'obiettivo di alcuni, i più violenti in queste manifestazioni, è di suscitare una reazione violenta. Perché cercano quello. È il miglior modo di sorgimento. Cercano lo scontro. Cercano lo scontro. che non solo causava un danno puntuale, ma avrebbe causato un danno, ma davvero a mezza Europa. Per quanto riguarda il lavoratore del treno, mi dicono che se scade durante il turno hai la possibilità di terminare quello che stai facendo. Questo dovrebbe essere... E bisogna capire quando era scaduto, probabilmente, quello del Green Pass. Non so se compare. E però, in realtà, se scade, qualcuno dice che scade a mezzanotte del giorno, se lui ha iniziato alle 8 del mattino, vuol dire che era valido fino alla mezzanotte del giorno. Magari era un controllo a campione, non li ha controllati all'inizio, ed era scaduto da due giorni. Cercano, non abbiamo elementi. Quello lì, il controllo a campione, effettivamente pone quel tema. Va bene. Adesso ci fermiamo, dopo la pubblicità parliamo dell'affossamento, del DDL Zanna. Tra poco. For, la porta blindata certificata in classe 4 anti-infrazione. Non affidare la tua sicurezza a una semplice porta. For è la soluzione economica e di alta qualità, sicura, elegante e inattaccabile. For è realizzata con le tecniche di ultima generazione, per garantire la massima affidabilità. Struttura in acciaio zincato a doppia lamiera, coibentazione interna e doppie guarnizioni perimetrali per un isolamento termico e acustico ottimale. For, serratura interbloccante con doppi cilindri e defender antitrapano. Con deviatore di chiusura superiore e inferiore a 4 punti. Lato cerniere con ben 4 punti di chiusura. Tutta la sicurezza che ti serve al piccolo prezzo di 1450 euro. Sì, hai capito bene, 1450 euro. Misura, posa, trasporto e IVA sono compresi nel prezzo. Ricorda, grazie alla detrazione fiscale in vigore, for ti costerà solo la metà. Non affidarti più alla tua vecchia porta non certificata, che chiude male e non garantisce la tua sicurezza e quella dei tuoi cari. Affidati a For, un prodotto Ferrinox, che da oltre 35 anni costruisce i migliori prodotti per la sicurezza della tua casa. Ferrinox. Sicurezza della tecnica. Tecnica della sicurezza. Oro da vendere? I compro oro non sono tutti uguali. Cashpoint paga subito in contanti oro, argento, orologi e diamanti. Massima quotazione e massima soddisfazione garantita. Cashpoint è a Milano, in Viale Zara 115. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. Visita il sito cashpointitalia.it o chiama il 353-4236-495. Ora 100 diamanti, scegli i nostri contanti, meglio con Cashpoint. Alla Mondoflex siamo pronti per iniziare una nuova stagione. E voi? Iniziamo insieme questo percorso consapevoli che il riposo, il dormire sano è molto importante. Noi siamo qui per ascoltare le vostre richieste e per trovare insieme la soluzione. Problemi di allergie? Montale, memoria, cellule aperte, anallergico e traspirante, scontato del 40 più il 20%. Problemi di sudorazione? Pascoli, in memory bridge, termoregolante che mantiene la temperatura del corpo, scontato del 40%. E se siete attenti all'ambiente, se volete una linea naturale, pirandello realizzato con miscele ricavate dai strati vegetali, scontato del 30%. E con il primo acquisto riceverete la carta oro che vi dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto, anche sui prezzi già scontati. Scegliete Mondoflex, perché Mondoflex fa la differenza. Vi aspetto! Allora, io stiamo ricevendo delle domande di persone che non sanno se fare il vaccino, quelli che dicono ho avuto questo problema, mi devo vaccinare, e l'esperto non ce l'abbiamo. Stasera purtroppo non possiamo rispondere. Il medico di base, il medico di medicina generale, rivolgetevi a lui che vi dà tutte le indicazioni del caso. Se gli risponde, perché alcuni poi a volte si vengono. Però è lì, guardate che è lì, vi conosce, dovrebbe rispondervi. Noi, sono questi due condizionali che lasciamo adesso. Però alla fine bisogna passare da lì. No, devi passarci vero. Secondi, il tema è, se una persona non può fare il vaccino ha diritto all'esenzione. Noi molti hanno l'esenzione. No, fanno nella terza dose, quelli che magari hanno avuto delle reazioni un po' pseudoallergiche alla prima o alla seconda. È tutto registrato. Adesso si sta diffondendo il panico della terza. Adesso si sta diffondendo il panico della terza. Sarà peggio della seconda. Adesso, calma. Va bene. Allora, cos'è successo in Senato, Jacopo? Vediamo il servizio di esultanza nel momento in cui è stato affossato il DDL ZAN, grazie a un voto segreto, per cui quindi anche quanti esponenti della maggioranza, non lo so, hanno votato a favore della mozione del centro-destra. Vediamo l'esultanza in Senato. Il Senato approva. La seduta è sospesa. La seduta è sospesa. La ex maggioranza, Giallo-Rossa, avrebbe dovuto... Su cui contava, che però non sono arrivati. Mancavano all'appello. Allora, prima domanda sull'esultanza. Gallera, esultare così è moralmente accettabile, visto che si parla di una questione di diritti. No, non parliamo... Sì, ma a me, più volte, ahimè, il Parlamento ha voluto provare a legiferare su temi di carattere etico o di diritti. Io lo dico, vogliamo parlare della fecondazione assistita, di tanti altri momenti. Qui poi alla fine, ahimè, era diventata però per colpa del PD, per colpa del segretario Letta, non più una battaglia di merito quanto una questione di principio. Noi vi dimostriamo che siamo gli unici che sono dalla parte della tutela dei diritti delle persone, della affettività, della libertà di affettività o di espressione di sessualità di una persona. Ecco, e anche questo è stata una azione, secondo me, sbagliata che ha portato a questo. Cioè, la reazione non è stato altro che l'impuntatura, perché oggettivamente bisogna leggerli i testi, no? Diciamo per chi non lo sapesse che il DDL ZAN prevede una serie di misure di contrasto alla discriminazione della violenza per motivi fondati su sesso e quelli ci sono già, su genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità. Vengono inasprite le pene perché discrimina... E su questo voglio dire, io sono d'accordissimo, come segnale, perché le pene c'erano già, siamo in un momento dove forse sottolineare che insultare, picchiare, avere degli atteggiamenti aggressivi, offensivi, dei reati nei confronti di persone, solo perché stanno esprimendo liberamente la loro sessualità, la loro affettività, il loro modo di essere, lo trovo sbagliato e forse bisogna dare in qualche modo un segnale. C'erano alcuni punti che oggettivamente facevano riflettere, no? Il tema del lavoro nelle scuole, allora, di che cosa stiamo andando a lavorare nelle scuole? Il 17 maggio prevedeva questo DDL che venisse in qualche modo spiegato ai bambini, no? Le differenze anche di genere. Allora, se il tema è quello di tutelare ognuno di noi, io dico che ognuno è diverso. Tu hai i capelli rossi, io non ne ho quasi più, pizzuglia bianchi. Noi, ognuno di noi ha il suo modo di essere e noi dobbiamo insegnare, sì, ai nostri bambini, la tolleranza nei confronti di tutti. Quindi, se a scuola si insegna questo bene, se a scuola vogliamo portare il libretto che io avevo visto del principe Coltisello... Ma che cos'è la libertà scusa? Ma quello era un caso limite, no? Beh, è caso limite, però vedi il problema è... Beh, però attenzione, quando noi parliamo del fatto che c'è un'assoluta fluidità... Era la libertà scusa della maestra, c'era la maestra che avrebbe portato quel libricino e la maestra che invece diceva non devi discriminare. Allora, la non discriminazione, noi, e lo dico perché le ATS di Milano, della Lombardia, lo fanno costantemente, cioè di agire nelle scuole su questi temi e addirittura lo facciamo formando degli ambasciatori, dei ragazzi che nelle scuole... Quindi non c'era bisogno di situare la giornata? Cioè, non c'era bisogno... perché quali erano i temi che venivano inseriti dentro questa giornata? Non lo sappiamo, no? E alcuni... il messaggio del rispetto di tutti va dato, il messaggio secondo cui se io uomo mi piace una donna, sono strano e devo essere guardato in maniera strana perché forse è bene che invece tutti cerchiamo di essere fluidi, penso che è un messaggio su cui dobbiamo riflettere, no? Boh, allora... Saremmo arrivati a quello. No, no, il rischio... Non so se saremmo... come saremmo mai arrivati a quello. Quella era una radicalizzazione... No, per carità, tutte le radicalizzazioni e tutti i tifi... Non era solo questo il punto che non vi piaceva, ce ne erano anche altri. E tutti i tifi da stadio, senza offesa per gli... Da una parte o dall'altra sono nocivi nel momento in cui si parla di tematiche sensibili. E io la reazione che ho avuto di fronte al video dell'esultanza in Senato è quella di dire che è stato un atteggiamento irrispettoso da parte di rappresentanti di tutti i cittadini italiani nei confronti di coloro che legittimamente avevano delle aspettative relativamente a quella legge, che si sono sentiti non rispettati da una modalità di espressione di esultanza che francamente era totalmente fuori... Però Malanna, senatore di Forza Italia, ha tweetato le foto invece, le abbiamo chiamate immagini baci, sono delle foto scattate dai banchi della Camera, credo, quando credo sia passata la legge Cirinà, perché questi sono esponenti del Movimento 5 Stelle che si baciano in maniera simbolica, sono donne con donne, che si baciano... Ma noi ci ricordiamo, non so, i 5 Stelle fuori davanti sul balcone con lo champagne... Però non era il Senato, non era in aula gallera gallera gallera... Ma vabbè, ma guardate, adesso, io penso che nessuno... Questi sono i baci, 5 Stelle... Nessuno deve dare lezioni... Però i baci sono carini, dai... Dopodiché, devo dire, anche questo lo ritengo inopportuno... Sì, certo... Proprio, vi parti... Cioè, non c'è più, tu dici il rispetto per l'aula... Anche perché c'è un voto, prendo lato di un voto... Però chi ha caricato di un significato politico e di bandiera... Perché guardate che il tema è quello... Cioè, il tema dell'esultanza non era più legata al merito del DL Zan... Era il fatto che quel signore che tu hai, alla tua destra... Al metodo, al metodo, ha detto... No, Letta, ha detto... Noi facciamo i duri e vinceremo, e i suoi non l'hanno votato... Perché i voti non sono i voti del centrodestra... Se non è passato... Sono franti tiratori questi... Parti delle persone del centro-sinistra non l'hanno approvato... Però, perdonami, esiste una priorità tra metodo e merito... E vince il merito... E non puoi fare quelle paliacciate lì per una questione di metodo... Con tutto il rispetto... Tra l'altro, e poi soprattutto... Secondo me... Chi ha fatto arrivare... Chi ha fatto in modo che si arrivasse al muro contro muro... E chi ha gestito in precedenza tutto il lavoro in commissione... Che è stato un percorso ostacoli, esasperante... Perché hanno fatto di tutto... Quelli del centro-est, in particolare della Lega... Per bloccare questo provvedimento e non discutere questo provvedimento... Poi, alla fine, devi arrivare a un punto di chiarimento... Punto di chiarimento che, purtroppo, secondo me è arrivato... Però il dato politico, scusate... È che dentro il partito... La coalizione di sinistra... Poi il Partito Democratico, Italia dei Valori, 5 Stelle... Alcuni non l'hanno votato... Questo è l'ele... Sono sempre dubbio... E allora... L'elemento è questo... Erano quelli che avevano il mal di panno a votarlo... Noi siamo gli unici difensori di alcuni valori... La sua maggioranza su questo l'ha smentito fragorosamente... Proprio... Io non so se l'hanno fatto nel merito... Cioè, non credevano in quella legge... Non so se l'hanno fatto nel metodo... Cioè, perché questo... A un certo punto impuntarsi di fronte alla disponibilità non è stata raccontata... Non lo so, però questo è il dato... Io però vi permetto di dire... Scusate... Merito metodo... Secondo me sono due piani diversi... Primo, e secondo... Il voto segreto è relativamente importante... La cosa che conta di più... È che la maggioranza del Parlamento... Il voto segreto... Su questi temi etici io lo rivendico come assolutamente... Per te è giusto? Sì, sui temi etici... Quindi ha avuto ragione chi ha chiesto il voto segreto? No, alla fine, sui temi etici... Che sono lì... Perfetto, no, voleva dire... Scusami, io rivendico il fatto che si voglia... Giusto... E sia plausibile il voto segreto... Dopodiché, io dico anche un'altra cosa... Che si è esposto il Senato, ma per le modalità con cui in commissione non si è voluto discutere ed entrare nel merito ostacolarlo, eccetera, eccetera... Non si è mai voluto discutere davvero nel merito... E perché Letta ha fatto una scelta di questo tipo? Perché c'era ormai la convinzione netta che da parte del centro-destra... Cioè non c'era fiducia da parte del centro-destra che nel momento in cui si fosse andati a trattare... Si sarebbe riusciti a fare qualche cosa o non fosse un diversivo per affossare comunque il progetto? Quella norma non era una norma che otteneva il consenso e il gradimento neanche di alcuni esponenti. Ebbè, se no non avrebbero votato contro. Queste 16 persone non l'hanno votato perché non erano d'accordo. Scusate, uno soprattutto su questi temi deve costruire un testo che riesce a essere rappresentativo o in cui ci si ritrova... Quindi tu dici il loro errore è stato quello di non mediare. Hanno radicalizzato. Alla fine il risultato è che tu non riesci neanche a portare... A convincere i tuoi. Esatto. Attenzione, letta. Vito dice che sbagli, Pizzo. Letta. Il voto segreto è una vergogna. Ma non è vero. Se non sei d'accordo ci devi mettere la faccia. Ma è solo sui temi etici. Sui temi etici non è assolutamente vero. Tipo sull'eutanasia tu staresti d'accordo nel voto segreto. Voto segreto perché la tutela della libertà di coscienza per evitare che ci siano dei messaggi del genere mettici la faccia che poi ti metti in croce... C'è una libertà di coscienza che deve essere tutelata dal voto segreto. Questo è un dato, secondo me, di civiltà assoluta. Io la metterei la faccia come l'ho sempre messa. Perché tu sei rappresentante di una parte di popolo, non sei rappresentante del partito. Per cui in teoria dovrebbe essere libertà, da un certo punto di vista, su tutto. Non c'è dubbio. Il problema è che poi noi siamo diventati... Infatti non c'è il vincolo di mandato. Infatti non c'è il vincolo di mandato. E guai a metterlo secondo me. Non c'è il vincolo di mandato perché ogni parlamentare, non so se anche i consiglieri regionali, anche voi, siete liberi di fare quello che vi pare. Io rappresento i cittadini. Il concetto dovrebbe essere questo, poi non lo è più da O. Poi comunque attenzione, stavo dicendo che l'ETA settimana scorsa ha aperto a delle possibili modifiche. Sono state fatte le verifiche del caso con gli altri capigruppo, il capigruppo dell'opposizione, scusate, non dell'opposizione, della minoranza in quel caso del centro-destra, almeno su questo provvedimento, che poi si è diventata maggioranza. E non c'erano le condizioni. A quel punto cosa fai? Blocchi tutto, ti metti in mano a loro che ti hanno ricattato, provi ad andare fino in fondo a capire, se non altro, testimoniando il fatto che tu l'hai portato avanti fino in fondo. Adesso che cosa succede? Bisogna capire perché è stato affossato. Salvini oggi ha detto, dai, letta, settimana prossima ce li mettiamo lì e lo... Teoria potrebbe tornare fra sei mesi in commissione, teoricamente, quel testo lì, magari già diverso da quello che era, poi per essere chiari fino in fondo, io anche qui avevo manifestato qualche riserva su alcuni punti del testo, però nel momento in cui si sceglie, in ogni caso, che quello è un testo e che si ritiene il testo da andare a votare, si va fino in fondo. Mandiamo la fascia, poi vediamo se riusciamo a collegarci con l'organizzatore della manifestazione di protesta contro appunto questo affossamento del DDL Zanna, tra poco. Alla Mondo Flex siamo pronti per iniziare una nuova stagione e voi? Noi iniziamo insieme questo percorso consapevoli che il riposo, il dormire sano è molto importante. Noi siamo qui per ascoltare le vostre richieste e per trovare insieme la soluzione. Problemi di allergie? Montale, memoria, cellule aperte, anallergico e traspirante, scontato del 40 più il 20%. Problemi di sudorazione? Pascoli, in memory bridge, termoregolante che mantiene la temperatura del corpo, scontato del 40% e se siete attenti all'ambiente, se volete una linea naturale, pirandello realizzato con miscele ricavate da estratti vegetali, scontato del 30% e con il primo acquisto riceverete la carta oro che vi dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto anche sui prezzi già scontati. Scegliete Mondoflex perché Mondoflex fa la differenza. Vi aspetto. Vamag, tecniche di collaudo, presenta One Stop. Questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di due minuti. Il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti. Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza. Vamag dal 1981, European Quality, made in Italy. Oro da vendere? I compro oro non sono tutti uguali. Cashpoint paga subito in contanti oro, argento, orologi e diamanti. Massima quotazione e massima soddisfazione garantita. Cashpoint è a Milano, in viale Zara 115. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. Visita il sito cashpointitalia.it o chiama il 353-4236-495. Ora 100 diamanti, scegli i nostri contanti, meglio con Cashpoint. Eccoci, enjoy electric. Oggi anche con Free Lease, il noleggio flessibile Mercedes-Benz. Scopri Eccoci su mercedes-benz.it Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus. Che cosa non convinceva Fabio Pinzul del DDL Zanna? A parte abbiamo detto l'ora del 17 maggio che sarebbe stata la giornata. No, ma quello poi c'era l'articolo 4 con cui ce l'avevano anche un po' nel centro-destra che fondamentalmente diceva che è garantita la libertà di pensiero. Ai fini della presente legge sono fatte salve, quindi viene garantita, la libera espressione di convincimenti e opinioni nonché le condotte legittime, ricondolucibili al pluralismo delle idee o la libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Cioè di cosa ci avevate paura? Io non avevo paura di niente, sto solo dicendo, e Giovanni Maria Flicca e anche altri costituzionalisti dicevano, quell'articolo lì era totalmente inutile. Perché è ovvio che c'è la libertà di pensiero. E se tu lo espliciti, il rischio è che tu metti nelle mani del magistrato il fatto che possa decidere o meno che una determinata espressione o un determinato atteggiamento possa causare o meno la violenza. Cioè loro avevano paura di un centro-destra che una persona che diceva che la famiglia tradizionale non mi piace potesse essere... Lo toglievi, non cambiava nulla alla legge. Quindi tu questo l'avresti tolto. Non cambiava nulla alla legge e smontavi una parte. Vi sarebbe piaciuta di più questo articolo? Guarda, io sono anche quelli che ritiene che una norma aveva un senso, no? E che quindi potesse essere fatta... C'era giusto tutelare e evitare... Sì, soprattutto un messaggio di inaspirare le pene per quello che c'è. Andava, secondo me, spiegata meglio il tema delle azioni nelle scuole. Io anche in legge. Cioè andava definito un contorno dove si dava un messaggio contro, voglio dire, l'intolleranza omofoba verso colui che esprime liberamente il suo modo di essere. Questo e non altro. E questo, indubbiamente, questo articolo era. È stato inserito alla Camera e ha votato da tutti, anche dal centro-destra. Ricordiamo che... Io sono un po' inorridito. No, no, però dico... Oggi che non c'è la legge Zara non cambia niente. Cioè se io vedo due ragazzi che si baciano e vado lì e l'insulto, sono passibile di... Ma il problema è loro che hanno introdotto l'identità di genere. E quella forse è la novità, no? Ma c'era... Insomma c'era la fluidità, il fatto che uno potesse anche prima della transizione... Sentirsi un uomo, sentirsi, esatto. Bene, ma voglio dire, adesso... Ma non so se... Loro credo che intendessero salvaguardare la discriminazione anche in quel campo lì. E anche sulla disabilità. Perché sui disabili la Costituzione... Ma la discriminazione vale nei confronti di tutti. Cioè, dove noi dobbiamo portare i ragazzi a rispettare. Ma perché... Cioè quando hanno gli attacchi di bullismo verso il più debole. No, certo. Verso quello che aveva gli occhiati. Cioè, noi dobbiamo portare i nostri ragazzi a apprezzare chiunque. Anzi, è il più debole che va aiutato. Ma tu saresti stato d'accordo su una rivisitazione del... Cioè, fare una mediazione con il D.D. Leggan, tu saresti stato d'accordo come Forza Italia. Io sono liberato. Io sono il primo che ha fatto in Comune nel 97 la mozione sulle unioni civili. Sono per il riconoscimento di diritti civili a ognuno. Ognuno deve essere libero di vivere la propria sessualità e la propria affettività come ritiene più opportuno. Deve essere rispettato per questo. Hai firmato il referendum radicale sul testamento biologico? Certo, io ho raccolto le firme. No, né testamento biologico. Io ho raccolto le firme su questo. Non solo l'ho firmato e ho fatto l'autenticatore, ma ho raccolto le firme. Perché ritengo che, peraltro, lì era... No, per quello te l'ho chiesto. Certo, io su queste cose, assolutamente, sono perché ci deve essere. Quindi sono sempre stato attento a questo punto. Però questo, questo D.D. Lezani, secondo te, era oltre? No, D.D. Lezani aveva... Cioè, io voglio dire, un conto è la tutela e il rispetto di tutti e un conto è provare a far passare dei messaggi che, in qualche modo... Cioè, io vedo oggi un'attenzione quasi eccessiva... Nella tutela delle differenze. Esatto, no? Allora, e attenzione, perché un conto è la tutela delle difese. Dopodiché ci sono il rischio della maternità surrogata o altro, è il passaggio che rischia di essere... Però, D.D. Lezani non parla di... No, 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 no. Stiamo facendo un ragionamento... Tu dici si apre il capitolo successivo. Io sto dicendo che il ragionamento, dove tu non tuteli più l'essere, nella sua espressione, qual è la sua... Quindi l'essere donna, l'essere uomo, tu dici, se diventa tutto fluido... Certo. Io vorrei anche, però, che gli stessi meccanismi, non li adottassi, ma adesso esco un secondo da questo ragionamento, su tutti, perché non possiamo chiedere che se io oggi mi sento, mi vesto da donna, devo essere assolutamente rispettato, io lo credo, e se poi io vado e dico, voglio dire, una frase sconveniente, voglio dire, che può essere una mia opinione, anche sul fascismo o altro, io debba essere perseguito su questo. Cioè, o siamo liberali fino in fondo e tuteliamo l'opinione e il modo di essere di tutti, quando tu non compi azioni contro gli altri, di qualunque tipo. Non si può essere tolleranti solo verso qualcosa. Hai capito, perché io, che poi andiamo in Consiglio regionale a dare la patente di democratico e di fascista, solo per l'espressione... No, vuol dire la mozione che è stata presentata, l'avete presentata voi, o in Parlamento, dove qualcuno lo deve fare. Se creiamo nella libertà di espressione di ognuno, lo facciamo fino in fondo. Certo, e infatti ci sono delle norme che dicono che la ricostituzione del partito fascista è vietata e siccome ci sono dei partiti, ci sono dei gruppi che continuano democraticamente ad agire, o c'è una magistratura che agisce o non ci sono alcuni che danno le patenti su questo. Non è sulla patente. No, no, no. No, no, beh, ma attenzione, è questo. Sulla mozione che avete presentato voi. Sì, ma non è se c'è una norma costituzionale. Ma la magistratura non agisce perché non ha elementi per agire, scuola, perché non sono stati compiuti azioni che portano un magistrato ad agire. Beh, però Forza Nuova nel momento in cui è assalito la sede della CGL. Ma chi era? Scusate, ma voglio dire, ma a Milano abbiamo fatto, dove ci sono state azioni altrettanto violenti di altre tante persone o c'erano ex brigatisti rossi o anarchici che facevano. Qualcuno si è sollevato su questi dicendo vergogna, dobbiamo sciogliere i gruppi anarchici o sciogliere questo. Ma io ho stato nessuno. No, io ho troppo doppio pesismo su tanti tempi. È chiaro quello che dicevo. Ecco, scusate, poi ci abbiamo lo stadio. No, su quello che è successo al Senato. Io sono molto triste per due cose. Per l'esultanza? Uno, il messaggio che abbiamo, che il nostro Senato, la Camera Alta, diciamo così, del nostro Parlamento ha dato con l'affossamento del DL Zan, è un messaggio che ha davvero ferito una parte significativa di cittadini. Perché il messaggio è, su queste cose qua, no, non ce ne frega niente di dare tutele. Secondo, è inutile che il centrodestra si nasconda dietro a un dito. È stata votata una nozione in cui il centrodestra ha chiesto il non passaggio all'esame degli articoli. Ripeto, il non passaggio all'esame degli articoli. Vuol dire che hanno votato la tagliola, cioè non ne discutiamo neanche perché vogliamo che venga affossato. E questo è il modo di confrontarsi. Questo è diventato il muro contro muro, no? Questo è diventato il muro contro muro. Però chi l'ha cominciato? Allora, chi l'ha cominciato? Perché qualcuno ha detto, quello è il testo, si va lì e si vota quello. E chi l'ha votata, l'ha votata una parte del centro-sinistra. Però, però, se non fosse passata quella mozione, si andava all'esame degli articoli. Perché si era svegliato lui in ritardo. Ho capito, si era svegliato gli articoli. Lui in retta. C'era la disponibilità all'esaminare gli articoli perché non lo si è fatto? E quindi anche a modificarli? Certo. Ma no, se sì. Ma l'avremmo manifestata prima. L'etta ne ha fatto una battaglia di principio. Ma anche Zingaretti. Opinionisti hanno detto che non è un leader perché non è capace. Ma anche Zingaretti. Non è vera questa. Anche Zingaretti. E sono andati via con le piume del sacco. Attenzione. Il Parlamento e il Senato, la Camera del Santo è sovrana. Perfetto. Benissimo. Vuol dire che nel momento in cui tu passi all'esame degli articoli, avrei preferito… Chi ha caricato politicamente il significato noi vinciamo e voi perdete è stato letto. E ha perso il punto. Sarebbe stato meglio o no? Che si fosse passato all'esame degli articoli e magari andavano sotto e veniva bocciato un articolo su un emendamento, ma quella legge. Come dicevi anche tu prima, che è una legge che alla fine dava un segnale positivo. Fabio, le dinamiche d'aula. Ascolta, voi state iniziando una querel sulla riforma sanitaria che ci porterà tre o quattro settimane a discutere. Non parlerete del merito. E allora presentano gli emendamenti. Ma per carità, ma fa parte delle dinamiche d'aula, l'opposizione per affermare la propria cosa, fa delle cose, stando cercando di parlare cinque ore di tutto a testa, quindi giorni e giorni, e in Parlamento hanno adottato questo meccanismo. Per affermare una posizione politico. Posso dire che l'esito è un ceffone in faccia a Enrico Letta e alla sua prosopopea. Questa è la realtà. Posso dire che non sono troppo convinto di questo e che Letta esce rafforzato da questa vicenda. Perché? Perché comunque dal punto di vista della tutela di quelle che sono delle posizioni e dei valori, è una sconfitta in Parlamento, ma può dirla a testa alta. E allora vuol dire che lui ha preferito, ha messo la sua bandierina politica di io sono l'unico difensore dei valori, piuttosto che portare a casa una legge che migliorava la tutela. Perché se lui avesse accettato un compromesso avremmo avuto una norma divisa anche dal signor, dal cattivo Salvini, dalla cattiva Meloni, che difendeva anche i diritti delle libertà di espressione. Ma per caro Gallela, per trattare gli esteri in due. L'ultima domanda che faccio a Gallela, se fosse partito due mesi fa, o tre mesi fa, a trattare, sicuramente Salvini si sedeva e faceva tutte le sue cose. Io non so se questa è la realtà. Aveva già deciso la legge. No, allora, loro, Forza Italia, sì. Noi l'avremmo fatto, Forza Italia non bastava. Io ti credo. Forza Italia sì. Il problema è che il centro-destra non siete voi in questo momento. Ma i numeri sono i numeri. C'è addirittura depositato un PDL Ronzulli, prima firma della senatrice Ronzulli, su questo tema. Quindi la volontà nostra c'è. Sarebbe in lieto di avere un centro-destra che ragiona come Forza Italia. Sì, ma la verità è che come siete spaccati voi, perché c'è Italia vita che rema da un'altra parte, sono spaccati loro, perché sicuramente Forza Italia su queste cose è più vicino. Per questo è che col buon senso e con una capacità di mediazione si costruivano maggioranze in Parlamento. Non si è voluto. Ma alla fine, scusa, Pizzo l'ha detto. Piuttosto che ottenere una legge che migliorava i diritti, si è preferito fare una battaglia di principio. No, no, no. Piuttosto che farsela affossare da Salvini direttamente, ha detto andiamo a finire il fondo così chiariamo. Va bene, credo che tra sei mesi ne parleremo ancora. Non lo so. Se torna. Non ne ho idea. Perché? Perché mettete in mezzo sala? Perché la prossima parte è parliamo della Stadio San Siro. C'è lo stadio, è roba sua. Quindi c'è roba sua. Non abbiamo un piccolo stadio da mettere qua. Va bene, sono contenta che è tornato Gallera, posso dirlo? Sì, sì. E quindi spero che tornerà ancora. Assolutamente. Pizzole di casa viene spesso, quindi non sono contenta. che sei tornato, perché è normale vederlo qua. Mentre invece vedere lui è meno consueto, quindi mi ha fatto piacere. Posso dire una cosa personale? Urca. Ecco, va bene. Restate con noi, perché dopo la pubblicità parliamo dello stadio di San Siro, quello vecchio e forse quello nuovo. Avrei parlato più volentieri di quello, io penso un po'. E beh. La prossima volta invitiamo. È per tradizione familiare. Eh certo, quella è anche vera. A tra poco, ciao Giulio Gallera. Ciao. Andiamo da me. Buona serata. Alla Mondo Flex siamo pronti per iniziare una nuova stagione. E voi? Iniziamo insieme questo percorso consapevoli che il riposo, il dormire sano è molto importante. Noi siamo qui per ascoltare le vostre richieste e per trovare insieme la soluzione. Problemi di allergie? Il primo acquisto è il 30% e con il primo acquisto riceverete la carta oro che vi dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto anche sui prezzi già scontati. Scegliete Mondo Flex perché Mondo Flex fa la differenza, vi aspetto! Alta ai ladri, quando la sicurezza è indispensabile per la protezione della tua casa e la serenità dei tuoi cari. Eco 3 Top, il geniale e rivoluzionario cancelletto di sicurezza per la tua casa. Sicuro, inattaccabile, elegante, confortevole, certificato in classe 3, anti-effrazione. È sicuro, con una costruzione geniale e rivoluzionaria, con ampi spazi fra le ante e il telaio, dove è praticamente impossibile ogni tipo di effrazione con leve o piede di porco, con serratura a doppio pistone, avente corsa 35 mm e 18 mm di diametro antitaglio, con cerniera scomparsa completamente incassata nell'anta e nel telaio perimetrale, con snodo brevettato incassato nel telaio per una maggiore sicurezza ed eleganza, ineguagliabile, è elegante, realizzato con un design semplice e piacevole, non ostacola eccessivamente il passaggio di luce, oltre alla massima sicurezza e resistenza, dona anche eleganza alla vostra casa. È confortevole, grazie alla zanzariera integrata in uno spazio ridotto di soli 70 mm, aumenterà il comfort della vostra casa, difendendovi anche da insetti e zanzare, ad un prezzo sbalorditivo, pari a quello di un comune cancelletto, privo di certificazione e garanzia. Con Eco 3 Top, la sicurezza per la vostra casa, non è più un lusso. Contattateci per informazioni, per un preventivo gratuito, o venite a trovarci nei nostri showroom con Ferrynox. La sicurezza è di casa. L'attesa è finita, nuova Land Rover Defender 90 è arrivata. Sono Luca Fagnani e vi aspetto qui in JB Cars, proprio nel cuore di Monza, per farvela scoprire. Nuove motorizzazioni 6 cilindri in mild hybrid e con Freedom Plus, può essere tua con 12.000 euro di anticipo, 36 rate da 370 euro e tra tre anni la ricompriamo al 59% del valore d'acquisto. Scopri tutte le nostre offerte su jbcars.it